Ci vorrà almeno la metà di maggio per riaprire via Cavour a San Nazaro dei Burgondi, la strada del municipio chiusa da quasi un mese per il palazzo Rischio Crollo. I proprietari hanno fatto ricorso al TAR contro l'ordinanza del comune con cui si sollecitava la messa in sicurezza dell'immobile fattiscente, interventi che in via Cavour, come ha fatto sapere l'amministrazione comunale di San Nazaro in una nota, sono attesi da oltre 20 anni. Per questo motivo erano stati concessi la proprietà cinque giorni di tempo per iniziare a occuparsi del ripristino. Qualora non avesse provveduto la proprietà, come precisato nell'ordinanza del sindaco Roberto Zucca, il comune se ne sarebbe occupato d'ufficio, rivalendosi successivamente delle spese sostenute nei confronti dei proprietari. Il tutto sarebbe avvenuto in un tempo massimo di 30 giorni, tant'è che il comune aveva già individuato una ditta per i lavori. Il ricorso davanti al giudice amministrativo Lombardo ha avuto come primo effetto quello di rallentare l'iter per la messa in sicurezza, ma, sottolinea sempre il comune, non sono state fatte proposte per sistemare lo stabile ammalorato e ripristinare la viabilità in zona. Una situazione inaccettabile che di fatto divide la città in due, attacca ancora l'amministrazione, lamentando i gravi danni al commercio locale e per i cittadini, in particolare le famiglie che portano i bambini a scuola e che si ritrovano il traffico deviato. Il comune, commenta il sindaco Zucca, ha richiesto altare la procedura di somma urgenza, al fine di arrivare il prima possibile a una decisione su chi debba intervenire per sistemare il palazzo di Via Cavour. Confidiamo che siano riconosciuti i diritti dei cittadini, conclude Zucca, auspicandosi che a intervenire siano direttamente i proprietari, per ritornare al più presto alla normalità.